Cosa succede che succede in giro? Chi vede bianco, chi vede nero, chi resta in casa, chi se ne va in strada Che cosa conta, che cosa è vero? Mi han detto che per tenere alti consumi è necessario far morire i fiumi Ho letto che le marche dei diamanti han provocato guerre devastanti Che il succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato Che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà Che un brevetto di una medicina vale più della vita di una bambina Posso capire che così si salvaguarda il lavoro, vorrei vedere fosse figlia loro La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno aperto la via Il commercio è uno strumento di libertà ma nel rispetto dei diritti e della dignità Della diversità e dell'ambiente e allora forza venite gente Che le speranze non si sono spente e allora forza venite gente Noi dobbiamo convincerli che la vita vale Una vita soltanto più di una multinazionale Noi dobbiamo convincerli che la strada buona Get up, get up, get up Il rispetto totale dei diritti e della persona Ho saputo che molte banche con i risparmi delle persone Ci finanziano l'industria bellica, il narcotraffico e la distruzione Cosa devo fare mamma? Vi prego signori che state a sentire Voi che avete il denaro, voi che avete il potere Voi che avete l'accesso, che guidate il progresso Voi che state pensando che c***o è questo fesso Che fabbricate e vendete prodotti scaduti E i vostri figli li mandate nei migliori istituti Che inquinate le anime, le acque di prati Ed i vostri giardini sono tutti curati E certe volte non vi sentite male Certe volte io mi sento male Ma le speranze non si sono spente Allora forza venite gente Noi dobbiamo convincerli che la vita vale Una vita soltanto più di una multinazionale Noi dobbiamo convincerli che la strada buona Allora è il rispetto totale dei diritti di una persona Cosa devo fare mamma? 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 Forse so che fare mamma Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali Indignità e diritti Oli le fatti Ed è il rispetto totale dei diritti di una persona E credo che dovessi Cosa devo fare mamma? E credo che la strada buona Non no 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 a nessuno